Ciao sono Magio, no non quello nero, quello sopra, cioè poi interpreto quello nero Comunque benvenuti in questo video e benvenuti nel mio canale Andremo a vedere Shredders, ovvero un gioco sullo snowboard e sul freestyle In campo appunto snowboardistico sulla neve, anche perché lo snowboard è fatto in altri modi Se non sulla neve, la vedo molto difficile Un gioco che fa parte dell'Xbox Game Pass e quindi ve lo potete giocare gratuitamente Se soffruite di questo bellissimo servizio di Microsoft Oppure ve lo dovete accattare comprandolo intorno ai 30€ se non vado errato Andremo a vedere le fasi iniziali giocate da un perfetto ignorante della materia Dove vedremo anche la trama, perché ha una trama, è profondissima Se avete a cuore i giochi che fanno della trama il loro punto cardine Questo gioco non c'entra una mazza, in tre video Ci viene data anche la possibilità con questa frecciona pixelosa di scegliere il nostro personaggio Ma direi che quello vestito di nero andava più che bene Questo gioco salva i suoi progressi automaticamente Vai Vai, quindi faremo dello slalom No, sono entrato in straforo pure Eh che cazzo Ma andiamo fuori pista però, eh Ok E fin qua E fin qua Di tenere il tastino premuto Anzi la levetta Mi sembrava abbastanza intuitivo Insomma gli altri tasti Che fa Ah, di qua che devo andare Sdallo un gigante Allora Oh, ma quanto Chiudono le rosse Oh Si frena Meno male Oh madonna Vai, 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 vai Dai a detacco Che ora? Che da fare? Ok Epico Epico Ho fatto uno slalom a cazzo di cane Com'è epico Ok Tipo? Addirittura Perché sono un alieno Non è una persona Perché è coperta così tanto? No, si vede la faccia Colore e la pelle L'hanno voluto evitare Erano contro la possibilità Che qualcuno dice Eh, li avete fatti bianchi Eh, li avete fatti neri Avete fatti asiatici Ah, infatti Sono degli alieni Direttamente Ci mettiamo dei razzi Per renderlo più divertente Togli che la bandiera Allora Allora Non ho ancora capito perché Il gioco è impostato in italiano Ogni tanto ci mettono del portoghese Forse pensano che sia uguale all'italiano Però Punta Passato Record anteriore Insomma La favola Che devo fare? Ok Rishredd Rishredd Oh, il paletto Il paletto Il paletto Tieni premuto E poi Rilascialo E ti cappotti Come un imbecino Perché l'ho fatto Ho sicur Pra reiniciar Vai Vai, flowa E allora Ho fatto un frontflip Ma me l'ha dato buono? Ma praticamente Mi sono spezzato Se vertebre Come fai se è buono? Cazzo che trama profonda Ma c'è la trama Nel canale YouTube Siamo a Shredd Greddon Shredd Greddon Vai Abbattiamo le bandiere No, era spenta Scotty Fai schifo No, è bellissimo Mi fa Cappottare la gente È fantastico Ma Ah, ma posso fare Forse posso fare Un piccolo saltino Anche Esatto Ok, ok Perfetto Non devo fare niente Di troppo Niente di troppo Frontflip La muerte Ok Diciamo quasi Oh Bam Sembrano delle mosse Di wrestling Ma cosa vuole che faccia? Devo prendere le bandiere Che devo fare? Non è facilissimo Onestamente Può saltare piatti Così è facile Ma Fare una qualunque altra cosa Arg Ok Bellissimo Cosa ho fatto? Quasi Quasi Dai Vicemme Casaltone Vicemme Casaltone Eh Sbam Prendi velocità Prendi velocità Dai Qui facciamo il mega salto Della bandiera Mannara Mondiale Globale Totale Sbam Faccio farlo voltare Nell'aere Ok Così si fa Ok Fantastico Epico Ma insomma avrete capito Com'è il gioco E soprattutto Quanto io sia pippa A giocare a questo gioco Ma se siete degli appassionati Di snowboard Degli appassionati Della neve Degli appassionati Di giochi sportivi E avete l'Xbox Game Pass Ve lo potrete gustare Grazie a me Se no va acquistato Un gioco indie Quindi costa Non di sicuro 60 euro Ma mi sembra Intorno ai 29 e 99 Come sono preciso Quando dico Intorno a Se vi è piaciuto Non mi piace di mettere un like Commentare e condividere Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao